Un milione di euro dal PSR Calabria per la tutela della biodiversità vegetale faunistica. L'intervento è finalizzato alla realizzazione di progetti tesi al ripristino e valorizzazione di specifiche caratteristiche tipiche del paesaggio agrario e rurale regionale e alla fornitura di servizi ecosistemici anche nell'ottica di aumentare l'attrattività turistica delle aree rurali calabresi. Per ciascuna iniziativa progettuale è previsto un contributo massimo pari a 100.000 euro. Il PSR non è solo investimenti in agricoltura, è anche altro. In questo caso è stato un investimento sulla biodiversità, in particolare i moretti a secco, un milione di euro per il momento con una gradatoria che è uscita in maniera provvisoria. Adesso vedremo la gradatoria definitiva, se sarà necessario fare ulteriori investimenti li faremo perché riteniamo che questa azione condotta non solo sulle produzioni agricole ma condotta anche sull'aspetto del territorio e sul paesaggio sia un'azione importante da mettere in campo con le risorse del PSR. Si tratta, sottolinea l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo, di una misura pensata per il soddisfacimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli abitato alla valorizzazione delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico.